Perché a Trescore, cambiamo e parliamo di spettacoli, è nata un'iniziativa particolare durata tutto il blocco, il blocco da quarantena, il centro, il cinema, il teatro nuovo e anche un gruppo di volontari. Il coronavirus non ha chiuso in casa il cinema o almeno quello di Trescore dove la sala cinematografica cittadina è andata avanti a produrre spettacoli anche se in modo diverso, si è partiti da nel mondo fragile dei fiori, spettacolo di teatro e musica in diretta streaming sul canale di Youtube. Gli spettatori davanti allo schermo furono 240 e sono continuati a crescere fino a raggiungere le 880 visualizzazioni. Con l'arrivo della zona rossa sono stati proprio gli spettatori a chiedere di continuare, è nato così il canale La Cultura non si ferma grazie a Monica Testa, il videomaker Matteo Kundari, le attrici, i docenti Elena Borsato e Micaela Vernice, tutti volontari. Sono circa 70 i video caricati con 8000 visualizzazioni totali, il tutto gratis. Ora la parola passa agli spettatori e a chi sta dietro le quinte per la realizzazione di un video speciale, da cui l'invito a spedire i ricordi più belli del passato legati al cinema teatro e le idee e le proposte per il futuro da cui ripartire. Si può mandare contributi video, foto, testi, messaggi vocali, disegni, insieme formeranno un video che racconterà la storia e le idee della sala cinematografica. I contributi vanno inviati agli indirizzi in sovraimpressione o alla pagina di Facebook.